Alessio di Modonapoli.it, mister volevo chiederle, lei è più contento del momentaneo primo posto della squadra oppure del gioco corale che sta... Il primo posto mi scappa da ridere, che si sta parlando, non hanno giocato ancora, quindi vediamo, comunque non ci interessa niente, ci interessa solo e che oggi per noi era difficile prendere, questi tre punti li abbiamo presi, l'unica certezza che abbiamo è che abbiamo un punto più della Roma, fino alla settimana fa ne avevamo un nome, quindi questa è l'unica certezza che abbiamo, poi il resto, quello che faranno altre squadre non ci interessa, ci interessa solo andare a giocare giovedì in merito, perché anche se abbiamo la politica in casa a noi ci dà il gusto andare a giro per l'Europa e fare risultato. Grazie mille. Posso? Maurizio, so che farai gli scollini.